salve a tutti bentornati in un nuovo video oggi parliamo di flameshot che cos'è allora è un programma alternativo perché non è di default su plasma per effettuare gli screenshot lo standard di plasma se premo stamp e spectacle questo qui che si apre mi chiede se voglio salvare una regione o tutto quello che ho nell'anteprima posso acquisire un'altra immagine posso andare in annota mettere una freccia però a me non piace il fatto che sia proprio una finestra e che è un po lentino detto questo io cosa devo fare per installare il nostro flameshot console sudo viper in flameshot attendiamo finito allora adesso flameshot c'è ma se premo stamp ok a mi funziona ancora spectacle allora posso installare spectacle se voglio io lo lascio non ci sa mai che qualche uno voglia tornare indietro scorciatoie globali flameshot abbia flameshot telka screenshot eccolo qua questo va fatto con lo stamp si e quindi questo applica adesso chiudo se premo stamp ok parte con take a screenshot ok posso fare anche salva per questo video tutorial è tutto